Bene cari amici, ben trovati dal vostro amico Dino, qui siamo in strada rurale del Torrente e c'era questo rovo che da tempo, ho notato, dava fastidio alla circolazione, faceva prendere la curva larga alle vetture, ebbene dopo 10 minuti di seghetto è ritornata la strada praticabile. Bene cari amici, ben trovati a Bombazesi.